A cinque anni dalla tragedia la comunità di Civita ricorderà le dieci vittime tra escursionisti e guida provocate dall'improvvisa onda di piena del torrente Raganello che si verificò il 20 agosto del 2018. Un muro d'acqua e detriti di almeno due metri e mezzo di altezza scaraventò le persone a centinaia di metri di distanza. Alcuni corpi furono recuperati ad almeno tre chilometri dal punto di impatto della piena. Domenica l'intera comunità, l'amministrazione comunale e la parrocchia Santa Maria Assunta si riurniranno in preiera davanti all'altare della misericordia divina per innalzare una sentita preiera per le dieci persone decedute in quel terribile giorno. Quanto avvenne in quel funesto giorno, dice il sindaco di Civita Alessandro Tocci, è qualcosa che noi non dimenticheremo mai, così come saremo sempre vicini al dolore incompensurabile dei familiari delle dieci vittime.